I mercati non hanno valutato la solidità dell'Italia e la frecciata del Presidente del Consiglio Italiano Silvio Berlusconi intervenuto alla Camera dei Deputati sulla situazione economica del Paese. Berlusconi ha affermato che i fondamentali economici italiani sono solidi e ha ricordato che il Governo ha l'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2014. Il Primo Ministro ha detto che i mercati non hanno tenuto adeguatamente in considerazione la solidità del sistema bancario italiano, la situazione patrimoniale delle famiglie e delle imprese, l'andamento dei conti con l'estero. Berlusconi ha poi aggiunto che nell'incontro di giovedì proporrà alle parti sociali una collaborazione per la stabilità e la crescita. ...della crisi internazionale, delle decisioni che il Governo ha assunto e intende assumere.